Saremo ricchi ragazzi, benvenuti a questo nuovo video, oggi vi porto un'altra partita del warrior, questo mazzo come avete potuto vedere da prima è fantastico Vediamo contro druido come ce la capiamo, in questo caso otteniamo la quest, in caso sia un tog waggle lo devastiamo totalmente con la missione Lo devastiamo letteralmente, abbiamo milicia fantasma in tu zola, facciamo subito la quest, nel caso sia un token non è un problema, perchè noi abbiamo molte rimozioni nel mazzo Quindi levare, diciamo, spirito, spirito dei boschi in tua forza della natura non è un problema per noi Ultimamente stanno dicendo anche spiteful druid, quindi vorrebbe essere anche uno tra quelli Allora, noi andando, se ho Maligos ragazzi, deve partire semplicissima, schiacciate i robati per tutta la partita e vincete Detto proprio semplicemente, Maligos serve per fare 30-40 danni, se voi riuscite a fare 30 d'armatura, che è molto facile con questo mazzo, è easy Lui decide di rompere Lui decide di rompere Vediamo cosa fa Vai Lunara Vabbè, me l'aspettavo, non è che sia una giocata che non la fa nessuna, beh, noi andiamo con la nostra idea In turno 6 possiamo già pensare di buttare la doppia milizia Sta bella, turno 10, 10 cristali di mana, puff e rinveniamo 3 robot Semplicemente, poi se c'è il dottor boom, hanno pure rass, quindi Comunque abbiamo capito che non è uno spiteful e quindi questa sta più tranquilli Parebbe benissimo interessante essere un Togwaggle Un Maligos e un Hadronox Ok, questa è quella che non ci serve per canterare il Mastroquart di guerra Ora, non ha senso fare una milizia e basta Sfattiamo con 2 così facciamo questo più facile, più facilmente Anche più velocemente Ma chissà perché non me l'aspettavo E' un Hadronox comunque In realtà non c'è cambia niente Usiamo Rissa Qualunque carta rimane possiamo tranquillamente levarla col cupo di scudo Personalmente non Non ha molto senso fare il colpo di scudo su 3-6 Potrebbe buttare intanto molto più forte il prossimo turno Con un 4-8 o un 4-12 quindi Ecco infatti Goof è buono Possiamo silenciare il 2-4 Il fatto di usare il Goof Che poi quando butta Hadronox Non ha come silenciarlo Quindi in realtà dovrei fare Goof o Zola Se no investire colpo di scudo su 2-4 Non è facile Come turno questo C'è fantasma Tipo doppia milizia Colpo di scudo In realtà secondo me ci starebbe meglio Per levare il 2-4 Ok dobbiamo conservare il Goof o per Hadronox Zola appunto serve per copiare il Goof o Si vorrebbe anche usare per qualche milizia Quindi tu fai la copia della milizia e te la ripendi in mano Nel frattempo c'è il nostro caro esploratore che Sta guardando la nostra partita Oh la corn offrente è un buon top deck Presentiamo con la quest Turno 10 L'assemblaggio Omega E noi facciamo milizia Milizia Un duo assemblaggio Probabilmente Oppure Il prossimo turno Vediamo tutto in base a cosa gioca l'avversario in realtà Dunque ragazzi Vi invito a fare una cosa Nei commenti di scrivere il mazzo che voi volete Vedere nei prossimi video Così adesso Vuoi dire adesso Sai Titan Jack Mi piacerebbe portare Mi piacerebbe che tu porti Il che ne so McHunter E io vi porto il McHunter Qualche partita fatta appunto con McHunter Questa Sono 200.000 rimozioni per le vana 3-6 C'è 3 carte In realtà possiamo fare milizia Intu Milizia Intu Zola Mi sento Zola Mi sento Zola Siete che fare i ro-power e spiritello di ro-power? No Quindi Andiamo così e finiamo la quest Ok Prossimo turno Tripla milizia e assemblaggio omega E completiamo la quest In più ci vendiamo dei roboi in mano Per andare a A dare fastidio all'avversario Questa è la lunara delle 200.000 rimozioni sui taunt E' la nuova delle 200.000 rimozioni sui taunt Allora, prima di buttare la Sulfuras Ci sarebbe una cosa a cui pensare Ovvero che ho ancora una Request Flurry Che se qua in realtà mi servirebbe per Hero Power Arrivo a 12 d'armatura Dopodiché distruggo tutti i Minion che butta da Adronox Se no mi toccherebbe sperare sulla Rissa O comunque su Dr.Boom che mi dà armatura Intull Hero Power che mi dà seta armatura E fare di conseguenza Rissa Ma... No Rissa, Reckless Flurry Ma ugualmente Devo cercare di evitare di puntare troppo sull'RNG per questa partita Allora, cosa possiamo fare? Ho usato doppia swipe e già l'ho usata Quindi posso permettermi di tradare il 3-4 Facciamo Hero Power intanto Difensore Pietrasalda Vediamo cosa prendiamo In realtà il Grigli non è male Vorrei facilmente prendere questo Signore della Pese soffre troppo la naturalizzazione Quindi Andiamo di Grigli Ok Ora, un problema è se lui potrebbe usare la naturalizzazione Per farci bruciare le carte a noi In tal caso non usa la naturalizzazione Per noi non è un problema Dunque lui ha 6 carte E noi 17 Quindi in fatica Ci lasciamo a cavare benissimamente noi Vediamo cosa fa Pesca una carta Quindi sicuramente gli mancherà qualche pezzo di combo E che l'ha appena trovato Qua fare sul Fura Mi piace come giocato in realtà Fare questa Tradare 4-3 Andiamo di Hero Power Dove va va? Non è un problema Ancora meglio così Ok, Amalgama Prossimo turno Abbiamo la potenza di 16 danni Ovvero 8 con i Hero Power Refresh Hero Power E altri 8 danni Allora in realtà servirebbe O il Dottor Boom No, il Dottor Boom no Che sostituisse il potere oro Perché in realtà Si può essere buono in realtà Non è Non è un problema Serve Rissa Per counterare Adronx Ok, List King Ok, vediamo dove va Il primo potere oro è Qua Che bello Boom Cominciamo a far calare L'armatura E cominciamo a dargli Parecchio fastidio Questo Dottor è forte Prossimo turno Abbiamo sempre l'occasione Di riflessare Hero Power Non può stare La naturalizzazione Sul 6-12 Boh, altre carte Non so in realtà Cosa stia aspettando L'avversario Cioè E in realtà è buono Più aspetta E meglio è per noi Ok Rissa 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 Ebbè qua che dire Hero Power Eh qua Scudo saldo Assalto avventato 8 danni a tutti Va bene Ok Rimasto il 4-4 Io lo uccido Con la mia arma E swingo Danni in faccia Ora Sperando che abbia Allora delle streghe Nelle ultime due carte O comunque Qualche carta buona Del tipo cubo Per noi ci aiuta molto Abbiamo 11 carte Ok Rissa 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 Ok Silenziamo il suo cubo Rissa E vediamo Cosa stia fuori Poi in realtà Lea Valium 3-6 Che forse E' meglio Gli abbiamo La possibilità Che gli esca Un suo servitore Vai Avanti Adesso rimanesse Uno qua E' bellissimo Oh mio dio Il gufo Il gufo E' fortissimo Il gufo Fortissimo Il gufo Allora Di solito Nel so C'era una Quella delle streghe Il druidi Quindi Per andare Tranquillo Passiamo Abbiamo 16 danni Con il doppio Patereroe Quindi Svinghiamo Tanti Tanti danni Oh Un cattivito 16 18 Danni In realtà Non è un problema Dagli servitori a lui Questo è bello Ora va in fatica E soprattutto E' sotto Gli 8 danni Del nostro Potere eroe Ora Vediamo cosa fa Ok Lui Tenta di farci fare Un 50 e 50 Tenta di farci fare Un 50 Allora Vediamo se ne abbiamo modo Di Di andare Al 100% Faccia Mi sa di no Beh a questo punto Facciamoci Un po' D'armatura Qua Vediamo cosa Cosa prendiamo In realtà Nulla Di che ci vorrebbe Servire Io proprio Andro a foto Sicuro Cioè O va Sul cubo O va A far Cioè Se ne frega Boom Boom E' così Cioè Vedete Anche dove sta La bravura Di un giocato Che Voi mandate 8 danni Faccio Assurdo Perché ragazzi Si vince Così Assurdo Va bene ragazzi Per oggi Per oggi è tutto Ci vediamo Nel prossimo video Ciao Esploratori Ciao 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 Grazie a tutti.